Buongiorno e buon venerdì. Allora, pollicione, se volete iscrivervi ringrazio, attivate la campanella per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono, commentano e sostengono questo canale e anche il canale secondario. Allora, oggi potrebbero, sottolineo, potrebbero iniziare le lavorazioni per la ricarica ordinaria dell'Adi. E' più probabile che inizino lunedì, però visto che fino ad oggi non hanno mai, e sottolineo mai, rispettato una data, potrebbero anche esserci oggi. Quindi, diciamo, dal primo pomeriggio controllate. Se non ci sono non succede niente, vuol dire che le fanno lunedì per il 27, a meno che poi non facciano anche, in questo caso come hanno fatto il mese scorso, invece del 27 le ricariche sono cominciate il 26. E ricordo, chi ha preso, ha ritirato la carta a metà del mese, la loro ricarica arriverà il mese prossimo, il 26 aprile, perché il 27, se non ricordo male, è un sabato. Quindi non riguarda loro, riguarda quelli che sono già in corso di ricevimento della ricarica da gennaio, ecco. Ora, in merito alle sospensioni, dico una cosa velocissima, non si può intervenire finché c'è la sospensione. Lo so, me lo chiedete in tanti, anche in relazione al video che ho fatto ieri, ai post, ai commenti che mette il moderatore, però non si può intervenire finché la domanda è sospesa, perché la domanda sospesa letteralmente è cristallizzata. Poi, poi, se allo scadere dei 60 giorni dovesse scattare quel famoso silenzio assenso, questo non significa che i controlli sono andati bene, eh. Significa semplicemente che intanto accolgono la domanda e i controlli continuano, quindi c'è anche la possibilità che la domanda venga fatta decadere. Però, in quel momento lì, si può eventualmente intervenire, attraverso la D.com, se potete utilizzarlo per inserire dei dati personali. Però, ve l'ho detto io, fino a che non mi dite voi che sono scattati i 60 giorni e si è passati da sospesa ad accolta, io non è che ci credo molto che lo facciano. Ci credo se me lo dite voi, no se me lo dice l'Inps, proprio perché è infattuale, in questi mesi qua sono smentiti più di una volta. Quindi, ribadisco, controllate il pomeriggio, se le vedete avvisate, avvisate Radio Ucce, avvisate Mister Lull, che sono partite le lavorazioni, se non ci sono oggi, ci saranno lunedì, faremo comunque il video lunedì in merito a questo. Chiudo su due cose, commenti che scompaiono, ragazzi, qui non li cancella nessuno, qui scompaiono anche gli iscritti, no? Nel senso che alcuni iscritti sono stati buttati fuori dal canale, ma non li abbiamo buttati fuori noi. Non li troviamo tra quelli bloccati, quello è il fatto. E quindi, altro reclamo, già mandato. Parte dei vostri commenti riusciamo a recuperarli, altri non si sa dove sono finiti. A me sta cosa sta cominciando anche a stancare, ecco, vabbè, però non ci possiamo fare niente, e non siamo noi a fare questi casini, ecco. Poi, mi dispiace per quello che è successo con i video sull'altro canale. È stato caricato, il fall audio c'era dentro, ma evidentemente è successo qualcosa per cui il fall audio non è stato caricato. Troverete lo stesso video oggi con il fall audio a posto, l'abbiamo già verificato. Mi dispiace, sono gli inconvenienti, come, ad esempio, altro inconveniente che ieri nella stessa ora ci sono stati caricati due short dei micioni. Dovevano essere uno ieri e uno oggi. Ragazzi, diciamo così, ci stiamo assestando un po'. Dobbiamo un attimo prenderci la mano, e comunque Alessandra, Giacomo e Fabiana sono già pronti a fare la corsa sui carboni ardenti, perché così imparano ad essere attenti. No, scherzo, non è colpa di nessuno, capita a volte di confondersi, soprattutto quando si è anche impegnati in altro. E chiudo su una cosa. Il Wall Street Journal, qui ringrazio i ragazzi del canale di Conte, ha messo in prima pagina la foto della Meloni che si copre la testa con la giacca. Non guardatemi con quegli occhi disturbanti. Ma vi rendete conto che questa è la Premier italiana e viene... Perché il Wall Street Journal non è l'almanacco della barbabietola, eh? Sono buonissime, però... Cioè, è una cosa un po' più seria. E tu, come Premier, ti riduci a fare quelle pagliacciate. Roba che fa sembrare pel di carota e gioventicello, persone serie. E tu ti riduci a queste pagliacciate che vengono viste in Mondovisione. E poi parli di credibilità del paese. Ma ste scemenze non le facevano neanche il fusilio. Cioè, queste cacchiatine qui non le facevano neanche il fusilio. Cioè, si rende conto di quella persona che ha un ruolo istituzionale? O, non lo so, pensa di essere all'isola degli incompetenti? Torrano fa una po' una trasmissione così, ma sapete quanti candidati? Vai in Parlamento e fai una paranza, non finisci più. Cioè, si rende conto che così umilia l'Italia o no? Io non so onestamente cosa dire, ecco. Dico solo che, oltre a raccontare balle sugli grandi successi dell'Italia che ha visto soltanto lei e quel branco di mantenuti di Stato che si porta dietro, ci sarebbe anche una questione di etica e di rispetto del ruolo. Ma sapete perché lo può fare, no? Perché dall'altra parte, chi dovrebbe richiamarla a rispetto del ruolo dorme, e quindi, mentre il dormiente dorme, questi fanno il cacchio che ne hanno voglia. Qui veramente siamo ai tempi della Casa delle Libertà con Neri Marco Re che facevano il trenino e dicevano facciamo il cazzo che ci pare. Sì, ma mentre voi fate il cazzo che vi pare, il paese va a rotoli, rendetevene conto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.